Con Martina Ivandri, il designer premiata a Olio Eficina Festival 2024, cerchiamo un po' di capire quante bottiglie avete realizzato, quanti brand avete seguito e qual è un po' il vostro stile. Ok, allora noi abbiamo partecipato con cinque aziende del territorio, quindi tutte e cinque con oli ovviamente differenti, però su tutti siamo andati a lavorare sull'interazione che c'era tra l'olio e la persona. Quindi abbiamo creato una bottiglia per bambini, quindi abbiamo messo un disegno da colorare affinché i bambini potessero interagire con la bottiglia e quindi rendere memorabile quella bottiglia. O ad esempio per un altro cliente abbiamo lavorato sulla sostenibilità con il riuso della bottiglia, quindi anche la stessa memorabilità perché una volta terminata la bottiglia può essere utilizzata come profumo per l'ambiente inserendo degli oli officinali all'interno. Quindi diciamo che questo è il nostro concept principale per tutti i clienti, quindi creare memorabilità affinché si ricordi anche quel brand. Quanto il cliente ha contribuito attraverso delle proprie richieste a quello che è stato il risultato finale e quanto invece alla fine imponete voi una vostra linea? Allora sicuramente il lavoro è sempre un po' 50 e 50, perché c'è bisogno che noi abbiamo il contributo dell'azienda per capire cosa raccontare e come raccontarlo. Ovviamente ci sono persone che si affidano a noi, quindi capiscono il nostro lavoro e arriviamo ad una sintonia che noi diamo ovviamente delle nostre percezioni a livello grafico, dei nostri concetti, invece loro ci danno tutto quello che deve essere raccontato di un'azienda. Vi occupate solo di olio, solo di situazioni legate al mondo del food o anche di altre? No, ci occupiamo sia di olio che di vino, ovviamente il nostro territorio ce lo permette, quindi conosciamo tanti viticoltori e tanti produttori di olio, quindi diciamo che ci stiamo avvicinando tanto al mondo del food e wine e quindi di conseguenza anche olio. Grazie.